Intanto grazie a voi, grazie al Presidente Boglione, al Presidente Ghir, a tutti coloro i quali hanno consentito questo, anche i volontari, perché dietro un'organizzazione c'è sempre il lavoro e la passione di tanti. Quindi grazie da parte mia, ma soprattutto da parte del Presidente della Regione Piemonte. Noi siamo particolarmente onorati, non solo di essere qui oggi, ma di aver fatto in modo, grazie anche al Ministro Brunetta, che un polo della Scuola Nazionale di Amministrazione fosse in Piemonte. In qualche modo, come veniva detto precedentemente, un po' gli era dovuto a questa Regione e ci fa molto piacere che il tema di oggi sia la riforma della pubblica amministrazione del 1853. Parlando del nostro Presidente, più famoso corregionale in termini di statista, il Conte Cavour, certamente sarebbe potuto essere un grandissimo Proministro come Stato, un grande Ministro all'Agricoltura, un grande Ministro alle opere pubbliche, un grande Ministro alla pubblica amministrazione. La prima grande riforma della pubblica amministrazione, quasi dieci anni prima dell'Unità d'Italia, fu proprio del Conte Cavour. Credo che questo sia il tema più significativo, perché noi è vero che abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione che, come diceva Marco Boglione, sia agile, sia snella, sappia rispondere alle esigenze dei cittadini, sia quanto più possibile digitalizzata e trasparente. Abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione competente e la competenza può nascere proprio da questa sinergia che oggi si trova qui, non solo con le istituzioni, ma soprattutto con la Scuola Nazionale e con gli Atenei. Quindi noi siamo davvero lieti di essere qui oggi e di fare parte di un cammino che possa in modo pratico e in modo reale, come spesso i piemontesi sanno fare, di migliorare la pubblica amministrazione di questa regione e non solo. Grazie a tutti.